Grazie a Bruno Manfellotto per questa introduzione, per la domanda alla quale certamente risponderò e grazie anche a Carlo Troio per avermi voluto qua alla presentazione del suo libro. Un libro che, prima di rispondere alla domanda di Bruno Manfellotto, vorrei fare qualche considerazione sul libro che vi consiglio davvero di acquistare e leggere perché è un libro che ha due aspetti secondo me. Da un lato, così come in qualche modo ha sottolineato Filomena, è un bellissimo libro per chi vuole riflettere sui temi non solo della eutanasia e del testamento biologico ma su quella che l'autore a un certo punto chiama anche l'agenda della laicità, questa agenda che dovrebbe essere presente nella vita, nella discussione, nelle riflessioni della politica del nostro paese e invece, come Bruno Manfellotto stolineava, a volte appare, sembra che quel giorno sia l'argomento più importante di tutto il paese, del dibattito, nei media, nelle televisioni, nella società e poi improvvisamente scompare per mesi o a volte anni di quel tema, non se ne parla più. Ecco, il libro affronta tanti temi di questa agenda della laicità, nella seconda parte ad esempio affronta il tema della fecondazione assistita, affronta il tema dell'aborto, affronta il tema delle unioni civili, tanti temi su cui il nostro paese è drammaticamente indietro rispetto ad altri paesi. Io vi voglio raccontare con un po' di vergogna il fatto che mesi fa venne chiamato a Bruxelles dall'Unione Europea da una commissione che si occupa proprio di quella parola che è stata utilizzata, del secolarismo in politica che aveva chiamato le persone che avevano un incarico istituzionale nel settore della sanità di alcuni paesi europei perché in Europa, a Bruxelles, erano preoccupati di alcune questioni, ad esempio la possibilità per una donna in alcuni paesi d'Europa di avere assistenza nella circostanza di un aborto. I dati che hanno a Bruxelles, che sono i dati che abbiamo anche noi, indicano che ad esempio ci sono alcune regioni italiane come la Lombardia dove ormai quasi il 90% dei ginecologi che lavorano nelle strutture pubbliche è obiettore di coscienza. Questo evidentemente al di là di un giudizio etico è un fatto, è un numero. E alla conclusione di quella seduta, qui c'è tutto un dibattito interessante nel mondo internazionale, si può dire chair man, chair woman, chair person, comunque era una donna, una parlamentare olandese, disse, io mi sentì, lei poi si esce conto e si scusò anche in qualche modo perché non voleva essere un attacco a me in quanto italiano, disse no perché bisogna essere molto attenti sui temi della laicità perché ad esempio ci sono due paesi ancora nel nostro continente dove due persone che si amano e sono dello stesso sesso non possono ufficializzare la loro unione e lo diceva come dire, pensate che ci sono ancora due paesi, io come italiano mi sentì davvero molto a disagio in quella situazione. L'altro aspetto importante del libro di Carlo secondo me è il fatto della delicatezza l'ha già sottolineato in parte Bruno con cui affronta il racconto, lo inizia, partendo da delle vicende da delle vicende umane personalissime come appunto la morte ma prima ancora la malattia del fratello del fratello Michele, un fratello di sei anni più grande, un fratello che rispetto all'altro che era un po' più grande ancora aveva condiviso i giochi, aveva condiviso anche forse dei viaggi e che nel momento della malattia Carlo racconta che addirittura, e lo dice con grande trasparenza anche se vogliamo un senso di umiltà che in alcune circostanze era sua moglie che lo aiutava a sopportare il dolore, le difficoltà di assistere il fratello che veniva ricoverato. E poi c'è questo fatto che a me ha fatto veramente riflettere tantissimo perché ho pensato a quando andai a trovare Eluana Inglaro, a quando andai a trovare pochi giorni prima della sua morte Pier Giorgio Webby e ai discorsi e alle riflessioni, ai discorsi con Pier Giorgio, alle riflessioni con il papà di Eluana sulla dignità e l'idea che ognuno di noi ha, che è sua, personale, non può essere scritta in nessuna legge dello Stato, del senso di dignità personale. Allora questo racconto che Carlo congiunge temporalmente di questa signora esperta, la badante della sua mamma che si trova ad assistere la sera prima della morte di Michele, Michele che ha il primo episodio rispetto alla malattia della sua vita di incontinenza e quindi deve essere lavato da mani estranee, assistito da una persona con la quale non aveva nessuna forma particolare di confidenza e che questa donna con la sua esperienza e con la sua umanità lo assiste, lo sistema, lo mette nel letto e gli mette un pannolone per la prima volta e lui poi il giorno dopo decide di mettere fine alla sua vita. Ecco, io penso che nella semplicità di quel racconto io ho trovato veramente tante di quelle riflessioni fatte in questi anni in Parlamento e al di fuori del Parlamento perché parte tutto da lì secondo me, cioè ognuno di noi deve essere libero di vivere o di morire sulla base dell'idea che abbiamo della nostra dignità personale e l'idea di Eluana che aveva lasciato ai suoi genitori scritta in una lettera bellissima, toccantissima in prossimità di un Natale in cui indicava che lei non avrebbe mai voluto trovarsi in una situazione in cui il suo corpo venisse manipolato da mani estranei come poi è stato per 17 anni, per 17 anni. Ecco, io credo, e anche nonostante qui c'è Nina, Carla Welli, che erano presenti quella sera in cui mi accolsero nella loro casa e mi hanno assistito a lungo colloquio con Pier Giorgio. Io, devo dire, trovandomi di fronte a un uomo così raffinato nel ragionamento, sinceramente pensavo che avrebbe potuto continuare a dare quel contributo che dava nel suo impegno personale, con il suo cervello, con il suo pensiero, però credo davvero che la decisione, se continuare a vivere aiutato da una macchina e una decisione, quella invece di sospendere l'aiuto che lui riceveva da quello strumento doveva essere davvero soltanto sua, nessuno può decidere per noi e tanto meno, lo dico davvero da persone che in questo momento ricopre un luogo con un ruolo in Parlamento, tanto meno può chi ha vinto le elezioni, chiunque vinca le elezioni. Non è un tema che può essere affidato a una maggioranza parlamentare che impone con una legge quello che ognuno di noi deve accettare o non deve accettare come trattamenti e come terapie. Io tante volte, Carlo lo ricorda anche nel suo libro perché è un esempio che tante volte ho utilizzato perché a me sinceramente mi ha molto colpito quando ho iniziato a approfondire da parlamentare, non da medico, questi argomenti e mi sono reso conto che il punto centrale della libertà di scelta rispetto alle terapie era stato scritto il 28 gennaio del 1947 nella seconda parte dell'articolo 32 della nostra Costituzione e il modo in cui venne scritto. Io ho cercato di immaginarlo perché ho potuto solo leggere gli atti dell'Assemblea Costituente ma il 27 gennaio l'Assemblea Costituente scrisse la prima parte di quell'articolo, una parte secondo me straordinaria che io, lo dico davvero con grande umiltà e sincerità non avrei mai saputo scrivere scegliendo così le parole perché se a me mi avessero detto scrivi qualcosa sui diritti alla salute io sinceramente avrei scritto che tutti i cittadini devono avere un accesso uguale alle cure e invece le madri, i padri e i costituenti in quell'articolo non hanno usato la parola, il sostantivo cittadini che hanno usato in tanti altri articoli hanno usato la parola individui, individui ma pensate il livello di discussione e di riflessione che queste donne e questi uomini avevano ma pensate anche che uno di questi era Aldo Moro che aveva 29 anni e immaginate un Aldo Moro di 29 anni che la sera del 27 gennaio torna a casa la mattina il 28 si ripresenta al palazzo di Montecitorio dove si riuniva la servia conseguente e chiede subito la parola e dice guardate noi abbiamo fatto un ottimo lavoro ieri ma il lavoro non è completo se noi non scriviamo un'altra parte di questo articolo e leggo le parole, sono due righe di Aldo Moro quella mattina alle 9.30 dice si tratta di un problema di libertà individuale che non può non essere garantito dalla nostra Costituzione quello cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie ma è incredibile, è incredibile ed è tutto lì, è tutto in quelle parole di quel giovane Aldo Moro di 29 anni allora io credo che insomma, non voglio rubare altro tempo ma credo che sia importante continuare questo dibattito nel nostro paese e cercare di spiegarlo anche, lo dico per primo pensando al mio partito, al partito democratico che questi sono temi di cui la politica si deve occupare è importante occuparsi di economia, certo, è importante occuparsi del debito pubblico, assolutamente ma un paese cresce e diventa più moderno soltanto se si occupa anche dei temi che ogni giorno riguardano la vita di ciascuno di noi le difficoltà di ciascuno di noi, le sofferenze e soprattutto un partito politico qualcuno che è impegnato in politica deve avere passione, attenzione per i problemi che ciascuno di noi vive come persona questo secondo me fa parte dell'essenza del dibattito politico soprattutto in un momento in cui, chiudo con questo concetto, abbiamo un Parlamento ancora eletto con una legge che non responsabilizza il parlamentare rispetto al suo comportamento in Parlamento e questo io l'ho detto e lo ridirò, spero quando si ritornerà a discutere di questi temi io ad esempio sono assolutamente, mi rendo conto che è molto provocatorio quello che sto per dire ma l'ho già detto, forse alcuni di voi mi hanno già sentito e l'ho detto anche al segretario del Partito Democratico in più di un'occasione, io non credo che su un tema come questo ad esempio in un Parlamento eletto come eletto in questo momento possa esserci la cosiddetta libertà di coscienza perché la libertà di coscienza io la concepisco quando il parlamentare poi risponde del modo in cui ha votato per cui se Marino vota contro il testamento biologico io poi alle prossime elezioni se voglio votare con lo schieramento politico non sono obbligato a ridare un voto a Marino insomma io credo che su questi temi ci debba essere una condivisione e un partito politico debba assumersi una responsabilità davanti al Paese prendere una decisione e poi sostenerla anche nelle aree di un Parlamento